The New Stories. La tua informazione libera. Ha iniziato a correre per lo studio. Arrivato alle scale al centro del palco, è scivolato e caduto a terra. Serata bagnata, serata fortunata. Invece di preoccuparsi per la caduta, i telespettatori di stasera tutto è possibile hanno apprezzato lo spettacolo di De Martino completamente bagnato. Ma, incidenti a parte, basta dare un'occhiata su Twitter e Instagram per vedere che il sentiment su Stefano è estremamente positivo. Questo è davvero un periodo d'oro per il conduttore. Alcuni commenti dei fan includono, Stefano De Martino con camicia bagnata annessa grande dono di Dio. Anche io voglio essere imboccato da Stefano. Qui mi taccio che è meglio. Mi spiace che è scivolato, ma tutto bagnato fa la sua bella figura. Comunque questa è stata l'edizione più bella nella storia di stasera tutto è possibile. Auguro a Stefano tutto il meglio. Se lo merita pienamente come nessun altro, io ve lo giuro. Secondo me stasera tutto è possibile, ha migliorato un botto la qualità della vita di Stefano eppure di suo figlio, perché lui deve essere proprio così tanto più felice e quindi pure un padre migliore. Io devo fare una confessione, Stefano De Martino è il mio guilty pleasure da quando avevo 14 anni e lo vedevo ad amici come professionista. Purtroppo è così.